La terza edizione del Castellabate International Film Festival è cominciata nel migliore dei modi nella giornata di oggi, 19 luglio, presso il Castello dell'Abate. La manifestazione, dedicata all'infanzia e al cinema e fortemente voluta dall'assessore della pubblica istruzione Elisabetta Martuscelli e dalla dirigente scolastica Gina Morillo, ha visto subito al cinema dell'attenzione tre corsi molto interessanti dedicati ai bambini. Yoga, corsi di teatro e storytelling a colori. Per quanto concerne il primo corso, i giovani fanciulli, che si sono muniti dei rispettivi tappetini, si sono immersi nel verde prato, accompagnati da una dolce e piacevole musichetta, la quale ha permesso loro di rilassarsi, facendoli catapultare in un altro mondo. Sui corsi di teatro i bambini si sono cimentati nel fare diverse prove di recitazione, cercando di imparare a gestire le proprie emozioni. Infine, sullo storytelling a colori sono stati realizzati in molteplici disegni molto belli e creativi. Adesso, prossimo appuntamento oggi pomeriggio alle 15 con i corsi di magia, country dance e animazione 35MHZ.